Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come escludere o dare un'eccezione a un programma che stai scaricando o installando quindi vale anche per i pacchetti file documenti video qualsiasi cosa che tu stai scaricando sul tuo pc quindi in questo caso se l'antivirus ti disattiva ti blocca quella minaccia però non è una minaccia in questo caso andiamo direttamente sul nostro scudo quindi qua sotto in basso a destra sicurezza di windows se non ce l'hai basta che scrivi qua sopra sicurezza di windows andiamo direttamente su protezione da virus e minacce scendi fino a giù fino a trovare gestisci impostazioni scendi fino a giù a trovare esclusioni aggiungi o rimuovi esclusioni in questo caso andiamo a cliccare qua sopra facciamo sì aggiungi un'esclusione come puoi vedere ho aggiunto tanto tempo fa una cartella default e un'altra cartella di un gioco di songs of forest quindi aggiungi un'esclusione puoi scegliere così il file o una cartella che stai scaricando o installando quindi in questo caso quando vai a scaricare così il programma disattiva prima l'antivirus quindi andando direttamente su windows windows defender firewall impostazioni avanzate quindi mentre stai scaricando così un'applicazione che ne so su un browser o su un sito qualsiasi vai prima su azione vai su proprietà e qua disattiva un attimo l'antivirus lo disattivi qua lo disattivi anche su attiva disattiva windows file qua lo disattivi torni indietro gestisci impostazioni ritorniamo su esclusioni ora mentre lo stai installando oppure stai estraendo così un pacchetto rar te lo blocca aggiungi un'esclusione vai file ed eccolo qua su desktop e scegli così per esempio un pacchetto rar come questo e l'ho aggiunto così nelle esclusioni processo cartella tipo file oppure cartella prendo una cartella qualsiasi prendo questo seleziono la cartella ed eccole qua le ho aggiunte così nelle esclusioni puoi anche rimuoverle in questo caso io uso avast antivirus ogni volta che mi scarica qualcosa oppure sto estrendo mi dice minaccia rilevata quindi mi dice o sposti in quarantena oppure crea un'eccezione quindi come antivirus pure è buono così facendo ti può dire se spostare così questo file o questo programma in quarantena oppure dare l'eccezione quindi in caso di problemi ancora scrivete sotto al video grazie a tutti per questa visione noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao